I bambini da 0 a 3 anni hanno bisogno di essere accompagnati e sostenuti in diversi ambiti che riguardano il loro sviluppo. Ritengo che sia importante aiutare i bambini a essere con loro nel sostenerli in questo cammino di acquisizioni di ambito sociale ed emotivo. Si creano delle attività, si offrono loro delle esperienze che vengono costruite insieme a loro sulla base degli interessi che vengono osservati nel bambino, nel singolo e nel gruppo. Quindi i percorsi che vengono costruiti. Poi abbiamo nel caso specifico del nostro nido degli interessi specifici per esempio sulla scienza, quindi la natura, si va molto in giardino e partendo da quello che è la relazione dei bambini e delle bambine con l'ambiente esterno naturale si creano poi magari dei percorsi all'interno, cioè sempre con un pensiero flessibile. E un altro aspetto importante nello sviluppo del bambino a questa età è quello relativo alle autonomie.